Allora prima andiamo a farvi vedere dal pubblico di 4 ore di rimanio una mia premia di Formula 1 Ma devo dire che più che la mia vita è a, sono contento della vittoria della Stato Perché per me non tocca la vita Mi piaceva prima di fare la valida con questa macchina e ovviamente vincevano Senti, rally storico però anche rally molto difficile perché la pioggia che hai provato credo fosse in Giappone qualche volta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti